E' tanta voglia per tutti ragazzi, io sono Feryx e siamo qui oggi su Fallout 4 perché iniziano subito gli easter egg potentissimi Infatti su Fallout 4 ragazzi ci sarà la possibilità di giocare con tantissimi personaggi sia del mondo della tv, sia del mondo dei videogiochi, sia del mondo dei cartoni ragazzi E anche della politica ragazzi, infatti su Fallout 4 non sappiamo se sono fatti apposta o soltanto per una casualità dato il grandissimo editor che c'è su Fallout 4 per quanto riguarda la stesura del personaggio C'è la possibilità di giocare con personaggi del calibro di Walter White, il mitico Heisenberg di Breaking Bad e qui state vedendo ragazzi la vera somiglianza che c'è tra quello del gioco e quello della serie tv Oltre a Walter White ci saranno personaggi famosissimi come The Boss di Metal Gear Solid, anche qui ragazzi la somiglianza è veramente veramente unica Rimanendo nel mondo dei videogiochi, quanti di voi sono appassionati alla storia di The Last of Us e al mitico Joel e anche lui sarà possibile utilizzarlo in Fallout 4 E sia davanti del wrestling chi di voi non conosce il mitico Hulk Hogan, il wrestler più famoso degli anni 80-90 è riproducibile anche lui qui su Fallout 4 E infine ragazzi la serie tv che tutti quanti amano, che tutti quanti seguono con passione e attenzione Noi siamo stati anche invitati a New York per un evento insieme a Black Ops a cui Clotharch è stato presente Ovvero stiamo parlando di The Walking Dead e ovviamente del suo protagonista Rick Grimes e anche lui sarà riproducibile all'interno di Fallout 4 nell'editor Ovviamente signori non sono personaggi prestabiliti questi quindi non potrete selezionare specificatamente il personaggio Se no sarebbe stato fin troppo bello e fin troppo semplice Bensì in base a tutto quanto l'editor dovrete modificare voi il singolo personaggio, partire da zero e ricreare questo personaggio Ovviamente è una cosa molto 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 difficile Bene ragazzi con questa prima carellata di easter egg chiediamo il video Ovviamente ne arriveranno tantissime a breve, tantissime guide su Fallout sia se siete giocatori esperti o se non lo siete E soprattutto arriveranno a brevissimo i punti dove poter trovare delle armi veramente veramente molto potenti Vi ricordo di passare sul sito wagna.it per scoprire quali sono gli altri personaggi giocabili all'interno di Fallout Io non ve l'ho detto tutto, vi ho portato solo i più famosi E da Feryx è tutto e noi ci vediamo nel prossimo video Bella